Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il maltempo tende ad allontanarsi velocemente verso la Grecia e con sé porterà via l'aria fresca che ci ha interessato in questi giorni. In Aguato è già pronta sul Mediterraneo più occidentale una nuova rimonta africana che apporterà i suoi primi effetti durante il prossimo weekend. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 27 luglio. Al primo mattino possibili piovaschi sul Gargano e Alto Foggiano in veloce esaurimento, altrove cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nuvolosità sparsa soprattutto sulla Basilicata e zone interne pugliesi ma con rischio molto basso di precipitazioni, cieli più soleggiati lungo le coste. In serata torna il sereno ovunque. Temperature come notiamo dalla grafica che risulteranno in lieve aumento con valori massimi che supereranno nuovamente i 30 gradi specie sul Tavoliere, Materano e Tarantino. In aumento anche i valori minimi. Vento sostenuto di maestrale, specie lungo le coste pugliesi. Altrove invece risulteranno più deboli. E per quanto riguarda i mari, mosso molto mosso l'Adriatico, poco mosso invece il Marionio. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno oggi ringraziamo il nostro telespettatore, Mattia Lusetti, per questo bellissimo scorcio azzurro dalla stupenda Vieste. Se volete inviare la vostra foto del giorno contattateci al numero Whatsapp e all'email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.